Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedere 60 e benvenuti nel mio canale Oggi siamo qui con un nuovo episodio della carriera Giocatore su FIFA 15 Nello scorso episodio abbiamo veramente dato spettacolo Con delle partite fantastiche Abbiamo vinto la prima 4-0 e la seconda Anche la seconda 4-0 Quindi davvero, siamo andati davvero molto molto bene E in questo episodio andremo a giocare La semifinale di andata Contro la Roma E' la semifinale quindi ci sarà andata E anche il ritorno e noi siamo stati inseriti In una formazione isolare Quindi noi ci vediamo in partita Prima però come sempre ragazzi 200 Like per il prossimo episodio E seguitemi anche su Instagram Mi chiamo Giuse360 Quindi detto questo noi ci vediamo in campo Buona visione a tutti Bella E qui ci pia ragazzi di squadra che stanno Per entrare in campo siamo allo stadio olimpico E inizia adesso Roma-Napoli Attenzione Cervigno dentro subito Dumbia Ragazzi qui c'è Dumbia che per me è un incubo Dumbia Mi ha fatto sempre gol All'importante che l'ho incontrato Attenzione Dumbia Dumbia Non ci credo Non ci credo Me lo son chiamato Dumbia Dumbia 1-0 Culibali Forza finalmente dopo 15 minuti Tocchiamo il nostro primo pallone Dai Forza Con calma Dentro Appoggiamo il sinistro Porca misera Chi era Davide Lopez O il signe Non lo so Una vita per recuperare palla Davide Lopez Via così Un minuto di recuper Fischia adesso Proprio quando stiamo per ripartire Brutta partita ragazzi Stiamo giocando male Io non so perché Ci sono alcune partite Che facciamo 3 gol E altre partite Quindi non riusciamo neanche ad azzeccare un passaggio E' buona Hiller Per noi possiamo andare Il sinistro Deviato Calcio d'angolo Dai Settantesimo Ragazzi ci vuole un gol Così facciamo l'1-1 E poi ce la giochiamo bene in casa Attenzione adesso Dentro No no Adesso spiegatemi Cos'è sta roba Cosa ha fatto C'è io non ci posso credere Cosa ha fatto Cos'è A chi volevi prendere Un piccione Volevi prendere Che cosa volevi fare C'è stavo anche per subire il 2-0 C'è io non lo so Calcio d'angolo Dai Entra anche Gabbiadini Cosa lo fa entrare a fare Gabbiadini Che è finita la partita Via così Culi parli spazzaviglia Partita incommentabile Prossima partita con l'Udinese Cerchiamo di dimenticare Quella partita davvero La partita scorsa Abbiamo fatto una tripletta Giocando un calcio spettacolare Adesso Stessa difficoltà Non è cambiato nulla Però Non siamo riusciti neanche A fare un tiro in porta Forse uno solo È davvero una cosa incredibile Comunque Partita contro l'Udinese Questa quella classifica di campionato Siamo in testa Con un punto di vantaggio Contro la Juventus Cerchiamo di non perdere O di fare brutte figure Anche il campionato Perché i punti sono Cari Perché la Juventus Vince sempre Quindi dobbiamo cercare Di vincere sempre anche noi Noi ci vediamo In campo Eccoci qui ragazzi Siamo al San Paolo E inizia adesso Napoli Udinese Albert Cayecone Via così Giorginio Ok Possiamo andarla Mettiamo giù di testa Ci arriviamo di testa Noi Incredibile Mertez Ora guardami Guardami nello scatto Mertez Dai ce la facciamo Dai ce la facciamo Il tocco sotto Mamma mia Fate Mertez Dentro Culi Di testa Traversa Di Culi Incredibile Guarda così Possiamo andare La finta è sul primo Dai Dai che vogliamo riscattare Una brutta partita Dentro Per Mertez Dai Mertez Insisti Mertez Mamma mia Che recupero Che ha fatto Di Smerte 1-0 Era un metro dietro Un po' di spalla Un po' di velocità La riuscite a prendere 1-0 Mertez È buona Dentro Subito per Gargano Guardate come giochiamo bene Adesso Guardate come giochiamo bene La perdiamo Però ragazzi C'è tutta altra partita Tutta altra partita Rispetto a prima Di Natale Il sinistro di Di Natale Fuori Però ragazzi L'Udinese sta attaccando Sta attaccando Dobbiamo stare attenti Attenzione Guardami i segni Guardami i segni Ok Bellissimo il passaggio Bellissimo il passaggio L'ha finita a rientrare Il sinistro giro Karnesic Può essere spinta Gajekon Si butta proprio Dentro ragazzi L'1-0 Non mi piace per niente Il sinche Guardami i segni Che lancio di sinche Attenzione Attenzione La prendiamo La mettiamo giù Dentro Il destro Karnesic Non ci credo Dai ragazzi Voglio assolutamente il gol Perché in questo episodio Ancora non l'abbiamo segnato E quindi voglio il gol Attenzione Mertens Mertens Guardami Ok Perfetto Un altro passaggio Buono Stavolta non dobbiamo sprecarlo Stavolta no Stavolta no Il destro Stavolta no Sbagliamo 2-0 Diciassettesimo gol In serie A Fa forza La palla nostra Possiamo andare Dentro per Hiller 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 Il destro di Hiller Ha segnato Lex Gokhan Hiller Molto molto bene Bella partita Stiamo giocando bene Soprattutto nel secondo tempo Caccio d'angolo dentro Attenzione Via così Finisce qui Non c'è più tempo 3-0 e 3 punti Prossima partita ragazzi Contro Genova Siamo stati inseriti Nella formazione titolare E questa qui è la classifica Quanto parla Juventus Ha pareggiato di nuovo Col Milan E con lì 1-1 E quindi siamo Più 3 punti Sulla Juventus Nella prossima partita Andremo a giocare La partita con Genova E dopo ci saranno Gli ottavi Di Champions League Contro il Liverpool Come sapete ragazzi Io mi farò sostituire Verso il settantesimo Circa Così per essere sicuro Al 100% Di giocare la partita Con il Liverpool Quindi non perdetevi Assolutamente il prossimo episodio Io come sempre ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un bel like Cerchiamo di arrivare a 200 like E seguitemi anche su Instagram Mi chiamo Giustus360 Quindi per questo video è tutto Bella Ciao